salve siamo andrea e martina siamo qui oggi per informarvi tutti ma soprattutto i giovani che in alessandria c'è cicles il negozio giusto per voi esattamente in corso roma numero 115 verso piazza garibaldi di fronte a via canigia il negozio cicles vende calzatura abbigliamento delle migliori marche sia per ragazzi che per ragazzi dagli otto anni in su da cicles troverete l'eccellenza nel vestire abito il jugeo e piumino peuteri giacca mark e completo patrizia pepe piumino peuteri e completo manila grace piumino breast e completo don duff completo pinco per l'abbigliamento dei ragazzi qui troveremo le seguenti marche fred perry roy rogers e sun 68 fred mellow scotch and soda imperial scorpion bay e invicta paolo pecora bark don duff breast per le scarpe to star scarpe walley walker la qualità la professionalità e la cortesia sono le litre del negozio cicles e per i clienti più lontani si effettuano anche spedizioni su richiesta cicles negozio di abbigliamento e scarpe corso roma numero 115 alessandria telefono 0131250524 punti a i i i i Grazie a tutti.